Quanto sta accadendo dimostra purtroppo che Grasso non ha ancora compreso l'importanza di presiedere in maniera super partes l'Aula del Senato. Purtroppo noi ci siamo trovati nella condizione di non vedere rispettati i nostri diritti di opposizione, non potendo dare rappresentanza alle istanze dei cittadini che vogliamo siano inserite in Costituzione. La riduzione del numero dei deputati, come anche l'abbassamento della soglia sul referendum e la possibilità di partecipare al processo legislativo con la scelta diretta del Senatore. Siamo stati imbavagliati e quindi siamo usciti dall'Aula per proteste.